Buonasera cari amici benvenuti a dopo cena il programma in prima serata dopo il telegiornale come sempre affrontiamo svariati argomenti che possono spaziare da quelli che affrontiamo nella nostra vita quotidiana argomenti anche che potrebbero essere interessanti per un possibile futuro come sempre facciamo abbiamo ospite in studio un esperto qualcuno che ci guiderà nell'argomentazione e è un'argomentazione quella di stasera che sicuramente interesserà molti di voi siamo in ambito di sanità in ambito di salute salute personale con problematiche che insomma noi ci auguriamo non siano sicuramente impattanti in maniera incisiva nella vostra vita però può succedere che nella nostra quotidianità abbiamo bisogno di ricorrere a un tipo di terapia come quella di oggi allora parliamo di onde d'urto questa sera quindi insomma un'applicazione in ambito fisiatrico e non poteva essere altrimenti avere con noi un fisioterapista nonché chiropratico insomma abbiamo qui Frattini Marco buonasera benvenuto buonasera a tutti buonasera allora per la prima volta una new entry nei nostri divani abbiamo argomentato diverse volte in questo in questo ambito sotto diverse angolazioni sotto diverse prospettie però questa è un'argomentazione che affrontiamo per la prima volta le onde d'urto ne siamo sempre insomma sentiti ricordare in varie trasmissioni in altre in diversi ambiti è una pratica quella delle onde d'urto recente come acquisizione o da dove arriva beh in campo fisioterapico sono entrate diciamo un po' più nella comunità delle terapie negli ultimi anni anche se in ambito medico sono già diversi decenni che sono entrate a far parte ecco delle varie terapie prima in ambito urologico poi fisioterapico e via dicendo ecco e al giorno d'oggi spesso vengono viene ricorso a questo tipo di terapia per svariate patologie in ambito ortopedico e quindi la patologia elettiva e quella insomma diciamo sì sì in campo fisioterapico sì sì in campo fisioterapico sì allora marco frattini lei è un professionista da diversi da diversi anni sulla piazza facciamo una piccola carta d'identità per chi non la conosce questa è anche una 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 vetrina dopo cena allora io mi lauro come fisioterapista nel 2001 poi ho percorso ho intrapreso il percorso negli studi di chiropratica finché nei primi anni di attività seguivo principalmente squadre di ciclismo professionistico ho seguito diversi campioni del ciclismo moderno tra cui anche marco pantani alla sua mancanza io mi sono sposato in quell'anno e decisi di aprire il mio studio privato che tutt'oggi il posto in cui esercito principalmente ma nel territorio pesarese e anconetano svolgo anche attività di consulente per quanto riguarda le onde d'urto in collaborazione con altri colleghi nei loro studi le onde d'urto diciamo che in questo momento rappresentano un po' la tua si è una delle è una delle specialità che per cui ho intrapreso ecco maggiori studi in cui mi sono applicato maggiormente ecco allora a beneficio di quanti magari non ne hanno mai avuto bisogno non sanno neanche di come è fatto uno strumento è un è un presidio un presidio medico sanitario anche di insomma di facile trasporto ce l'abbiamo qui se la regia con la inquadratura larga lo mostra ecco è questo qui questo è lo strumento del tuo lavoro sì questo è un macchinario ad onde d'urto focalizzate dove oltre allo scassi della macchina la parte principale del tutto quindi questo è il motore abbiamo poi un trasduttore un manipolo che genera l'impulso elettrico o piezo elettrico o quel che il macchinario produce che viene appoggiato a livello della cute nel punto dove noi dobbiamo trattare il paziente ed emette delle onde sonore in questo caso quindi questo macchinario così insomma facilmente trasportare ti permette di essere presente un po in tutto il territorio tu non lavori soltanto nel tuo ambulatorio ma spazi in diverse città allora il mio studio principale rimane a monteporsio però collaboro anche a pesaro al fisioradi a fano al centro medico salus metauro a senigallia in uno studio medico ea falconara al chinesi sport insomma cerchi di essere presente insomma in tutto il territorio quindi insomma naturalmente per chi avesse bisogno eventualmente sono di facile rintracciabilità anche via web via internet al sito www.marcofrattini.it ecco bene quindi insomma sei facilmente rintracciabile come sempre abbiamo detto in questi casi ogni volta che abbiamo argomentato su disquisizioni che riguardavano la persona e comunque chi interagiva con la nostra persona di rivolgersi sempre a persone che sono qualificate rintracciabili che insomma sono le improvvisazioni qui bisogna lasciarle bisogna lasciarle da parte il consiglio che do è sempre di rivolgersi a un medico o a un professionista abilitato che prima di fare la vostra terapia vi spieghi per bene quello che andrà a fare il perché e il per come è importante anche appunto valutare la valutazione però capiamo un po meglio cosa sono queste onde d'urto tu hai portato delle slide che possiamo vedere ecco in questa slide possiamo vedere la grossa differenza tra due macchinari che spesso vengono che noi troviamo in ambito medico negli ambulatori abbiamo sulla vostra sinistra le onde d'urto focalizzate dove il trasduttore genera delle onde acustiche che penetra attraverso i tessuti focalizzando in un punto preciso tutta l'intensità nell'altro caso abbiamo le radiali obalistiche invece dove il manipolo azionato tramite aria compressa genera delle onde pressorie che purtroppo a livello dell'acute si disperdono avendo un effetto molto più superficiale e meno preciso per quanto riguarda alcune patologie da trattare allora quindi abbiamo capito subito che c'è un discriminante c'è una grossa differenza tra i vari macchinari sì questo ne determina sia il costo della prestazione purtroppo sia nel numero di sedute con le radiali spesso si ha bisogno di un numero maggiore di sedute anche se con un costo molto minore con le focalizzate al massimo 3-5 sedute a cadenza settimanale danno un ottimo risultato è molto più preciso e questo è il tuo caso tu utilizzi questo tipo di macchinario che sicuramente ti dà performance da degli ottimi risultati se usato in mani esperte sotto guida ecografica e spesso non è la panacea per molti mali ma può risolvere molte patologie che andrebbero incontro magari ad interventi chirurgici vediamo le altre slide le diapositive con le quali possiamo naturalmente capire meglio ecco qui ecco in questo caso abbiamo tre vari applicatori di onde d'urto nel primo caso a sinistra abbiamo un applicatore focalizzato che penetra in profondità un altro trasduttore sempre focalizzato ma in questo caso viene utilizzata una modalità differente nel terzo caso alla vostra destra un applicatore radiale sotto forma di una specie di pistola se così la vogliamo chiamare che viene appoggiata alla cute ed emette queste onde pressorie ecco qui vediamo diversi fasci d'azione sono realistici questi fasci più o meno sì con il focalizzato possiamo arrivare fino ad una profondità precisa al millimetro di 4-5 centimetri con il radiale ci fermiamo all'incirca circa 2-2 centimetri e mezzo e già questo basterebbe per capire la differenza perché effettivamente poi dipende dove dobbiamo andare ad agire con un applicatore di questo tipo ecco facciamolo vedere a favore dove il nostro camera si stringe dove il nostro trasduttore in questo caso in gel ci permette di focalizzare tutta l'intensità in un punto ben specifico in questo caso un centimetro e mezzo ma questi vengono cambiati e tralasciando integra tutta la cute tra il trasduttore e il punto in cui viene colpito il tessuto si che noi vogliamo colpire e tutto quello che c'è sopra e sotto non viene toccato mentre con le radiali la cute fino al punto diciamo che si vuole colpire comunque ha un trauma faccio sempre l'esempio di una calcificazione di spalla con le radiali che io ho avuto e ancora ho in ambulatorio si ha un effetto di un traumatico del tessuto creando spesso ecco un emostasi quindi un ematoma quindi perché comunque sono sono delle onde che generano a livello della cute comunque una percussione e hanno un buon effetto traumatico per i tessuti quindi pensate a una cuffia di rotatori già degenerata già rovinata andarla a traumatizzare ancora di più non è proprio il massimo non è il massimo vediamo le altre così capiamo anche quali sono i campi d'applicazione questo è un altro un altro a loro volta le focalizzate possono essere distinte in tre gruppi principali tutti ottimi è cambiata un pochino la l'ingegneria a livello ecco di di strumentazione abbiamo il vecchio macchinario elettroidraulico dove il trasduttore era riempito d'acqua il macchinario elettromagnetico dove il punto focale di applicazione è leggermente ridotto gli ultimi gli ultimi modelli quelli piezoelettrica ci permettono sotto guida ecografica di di traumatizzare una parte di tessuto piccolissima e di andare di circa due millimetri tre millimetri al massimo e di essere così molto più precisi su dove andare a parare pensate un esempio le faccio gli applicatori che si utilizzano in campo urologico per calcificazioni renali e via dicendo lì abbiamo un trasduttore molto grande che viene appoggiato sulla pancia sullo stomaco del paziente sotto guida ecografica o sotto tac e viene colpito un punto precisissimo all'interno di un corpo umano quindi non si può andare ecco così a occhio e quelli sono applicatori molto più grandi che vengono utilizzati specialmente in ambito ospedaliero con la stessa tecnologia che adesso è stata portata in ambito ortopedico fisioterapia la sonda di cui parlavamo è quella che tu utilizzi di ultimissima generazione vediamo l'altra che ci permette anche in questo caso di capire meglio perché in questo caso sempre parlando di onde d'urto focalizzate si fa ecco un pochino la differenza tra quello che è il punto focale di applicazione tra i vari sistemi elettro-udralico elettromagnetico e peso elettrico ecco il punto molto più piccolo che noi andremo a colpire quindi precisione molto importante sì oltre alla precisione è il grado di dolore che si viene a creare perché dobbiamo comunque essere ben esplicativi che qualsiasi tipo di onde d'urto che sia radiale o focale nel momento in cui si applica la seduta crea un pochettino di fastidio ecco che con questo tipo di ultimi applicatori è ridotto diciamo al minimo perché chiaramente non c'è più bisogno di un'anestesia locale è molto più sopportabile tollerabile da parte del paziente del paziente vediamo anche le altre così noi ci affrontiamo ecco qui ci hai portato delle immagini ecografiche perché chiaramente questo è uno dei campi principali di applicazione delle onde d'urto sono le calcificazioni di spalla questa è un'immagine no radiografica è un'immagine ecografica di una cuffia dei rotatori si vede quella segnata una calcificazione nel contesto delle parti molli probabilmente un sovraspinato di circa un centimetro abbondante ecco in questo caso noi con un applicatore sotto guida ecografica possiamo andare a colpire precisamente la calcificazione nel punto e alla profondità che noi riteniamo opportuna io mi avvalgo o di all'aiuto dell'ecografista o in caso non ci sia a livello ecografico utilizzo il mio ecografo vado prima a puntare sulla spalla il punto da colpire la profondità e poi si va con le onde d'urto quindi oltre alla spalla ci sono anche altre applicazioni quelle che normalmente possiamo trovare su una casistica maggiore sono quelle della spina calcaneare a livello del piede oramai frequentissima specialmente nelle persone che utilizzano una scarpa antinfortunistica ecco in questo caso abbiamo una spina calcaneare sia posteriore che plantare che moltissima gente per varie problematiche al giorno d'oggi va incontro a un'infiammazione e quindi al ricorso a delle onde d'urto quindi questa è una delle applicazioni un'altra di quelle applicazioni la possiamo comunque utilizzare anche in ambito del gomito per quella che riguarda la vecchia epicondilite o il gomito del tennista viene usata spesso in ambito di tendinosi al ginocchio le peritrocanteriti al tendine d'achille viene utilizzata altresì qui abbiamo un piede anche questo è sempre un piede vediamo una spina calcaneare plantare spesso ne soffrono come vi dicevo pazienti che utilizzano scarpe antinfortunistico scarpe dure scarpe in cui la durezza della suola porta all'infiammazione ma non dello sperone ma della fascia plantare che si inserisce sullo sperone poi qui sarebbe da allargare molto di più il discorso una cosa che è ben specificare ai vari pazienti è quella che in ambito dello sperone lo sperone non viene frantumato come molti pensano non è una calcificazione di spalla che anche lì sarebbe tutto da allargare il discorso lo sperone c'è, rimane e ci sarà sempre si va a sfiammare il tendine che si inserisce sullo sperone quello è il punto di inserzione mentre in ortopedia fino a 10-15 anni fa spesso veniva utilizzata una tecnica chirurgica ora gli specialisti del piede preferiscono non più intervenire chirurgicamente o perlomeno lasciare come ultima spiaggia quel tipo di approccio si fa un approccio complementare magari con una scarpa corretta con un plantare su misura terapie corrette come quelle che possono essere le onde d'urto un laser o una tecarterapia però ecco l'intervento chirurgico è quasi da escludere nel 95% questo è un altro tipo di applicazione molto specifica è una pseudoartrosi una pseudoartrosi, un femore cos'è la pseudoartrosi? praticamente è una frattura ossea normalmente di un osso lungo del corpo che a distanza di 4-5 mesi è ancora non ben saldata uno dei campi di applicazione ecco si va con le onde d'urto nel punto specifico stimolando gli osteoblasti a produrre un callo osseo ecco questo è il prima e il dopo di una paziente si trattata con 7-8 sedute di onde d'urto a distanza di 6 mesi questo è un chiodo però questo è un chiodo endomidollare la frattura era una frattura importante che non andava incontro a calcificazione quindi l'osso è quello più chiaro il chiodo diciamo è quello che voi vedete bianco sì radiograficamente quindi alla sinistra la frattura prima delle sedute prima del trattamento a distanza di circa 6 mesi questo mi sembra la stessa radiografia sempre della stessa paziente il callo osseo che si è riformato nella rima di frattura che c'era a metà bel risultato bel risultato con remissione anche del paziente in termini di dolore e anche di attività di vita quotidiana ecco al ritorno alla normalità certo ancora delle diapo se ci sono le vediamo così capriamo ecco questa è l'ultima che vi facciamo vedere parlavamo appunto dell'utilizzo in ambito urologico in ambito urologico mentre prima vi ho dato una piccola pillola su quello che era l'ambito urologico però a livello renale spesso un'altra patologia frequente in noi uomini è quella dell'IPP dell'indurazio penis argomento che alle volte viene un attimino tralasciato un po' per vergogna un po' per la delicatezza del trattamento certo un'applicazione che al giorno d'oggi dà degli ottimi risultati oltre a quella chirurgica e farmacologica è quella delle onde d'urto in questo caso le uniche che hanno effetto sono quelle focalizzate perché noi dobbiamo andare a colpire la placca che si forma a livello dei corpi carvinosi del pene che piccola parentesi in noi uomini purtroppo per traumi per patologie associate a varie problematiche portano all'incurvamento doloroso del pene specialmente nei rapporti sessuali e quindi questo è un campo gli urologi ultimamente oltre alla terapia farmacologica prescrivono un ciclo di onde d'urto con ottimi risultati anche lì poi bisogna essere specifici e sinceri nel dire al paziente la gravità del problema queste sono applicazioni con un trasduttore possiamo vedere ecco nella prima in alto a sinistra su uno sperone posteriore di piede centralmente sempre in alto lo sperone calcaneare in una risatrosi di mano probabilmente o una calcificazione di una mano adesso lì non è ben specifico gomito, ginocchio e peretrocanterite un problema frequente spesso nelle donne proprio perché la loro conformazione del bacino molto più ampio porta in soggetti che sovraccaricano la parte esterna dell'anca a delle borsiti che vanno trattate o con onde d'urto o con altri tipi di applicazione di macchinari in fisioterapia o a delle volte si aiuta anche a livello ortopedico con delle infiltrazioni con delle infiltrazioni allora ma è una insomma una pratica applicabile a tutti o ci sono anche qui delle valutazioni da fare? No, come tutti i macchinari in ambito fisioterapico hanno delle indicazioni ma anche delle controindicazioni classiche quelle che possono essere una neoplasia in atto bisogna valutare bene problemi cardiaci in atto in loco se ci sono dei pacemaker oppure nelle donne se c'è una gravidanza in corso e via dicendo ecco non sempre applicabile quindi è bene che il professionista che vi segua vi dia tutte le informazioni del caso cosa che tu fai quando hai un paziente praticamente anche quando mi arrivano pazienti con indicazioni di onde d'urto non inizio mai la seduta finché non gli ho spiegato un po' tutto quello che è il discorso perché non sempre è possibile attuarle e soprattutto magari uno che le fa per la prima volta non sa che cosa va incontro bisogna essere realistici spiegare un po' tutti i pro e contro le varie tipologie quello che si va a fare e dove si va a parare e anche i risultati che ci si può aspettare e fasce d'età anche qui non ci sono grosse controindicazioni perché si utilizza anche nel bambino nell'adolescente fino all'anziano in ambito geriatrico fino alla tardetà ecco perché ti sei voluto focalizzare con questa c'è qualcosa che ti ha stimolato in maniera particolare nella mia attività di tutti i giorni svario un po' ecco dalla terapia manuale come chiropratico ma mi sono sempre interessato negli anni a qualsiasi tipo di tecnologia in atto e nuove applicazioni sono anni ormai più di una quindicina di anni che ho iniziato nel territorio con le onde d'urto dai primi macchinari adesso andando sempre più avanti con l'evoluzione e mi dà degli ottimi risultati in ambito in ambito lavorativo ecco e continuo anche su questa strada sì ma 15 anni di esperienza non sono pochi non sono pochi anche perché i primi macchinari che comprai mi ricordo ingombranti avevano un compressore da portare dietro e via dicendo sono stato ecco uno dei primi forse ad utilizzare questa tecnologia ecco quando ancora era un pochino un po' arcaica diciamo c'è stato un precursore sì sì ma l'evoluzione è abbastanza rapida ecco quindi insomma comunque però magari aver vissuto tutto l'escursus dagli albori fino adesso sicuramente riesco ad avere una casistica abbastanza importante di quelle che sono la provenienza dal mondo sportivo ti ha influenzato in questo o così o pochino sì allora io con il ciclismo ho avuto la fortuna di viaggiare tanto all'estero continuo a farlo tuttora e all'estero questo tipo di applicazione era già arrivata qualche anno prima negli Stati Uniti in Europa in Francia avevano già ecco un pochino la mentalità una grossa differenza ancora c'è anche a livello italiano per esempio alcune regioni d'Italia al nord ancora hanno la fortuna che le passano mutuabili da noi non lo fanno più lo facevano qualche anno fa qui l'azienda ospedaliera di Fano che però negli anni ha ridotto questo servizio e quindi pro e contro per quel che riguarda la clientela adesso si devono rivolgere a professionisti del settore privatamente comunque questa macchina di ultima generazione come dicevamo all'inizio permette di ridurre le sedute e quindi magari sicuramente anche i tempi di recupero della patologia e del ritorno magari all'attività lavorativa quando si parla di casi gravi magari di epicondilite o di sperone calcaneare che impedisce ecco la quotidianità dei gesti della persona c'è un caso che ti ricordi che volevo dire non si riusciva a parlare da nessuna parte con questo sei riuscito allora più che un caso specifico capita delle volte è che pazienti che hanno già avuto hanno fatto ricorso a diverse tipologie di trattamento quali laser tecar trattamenti manuali o infiltrativi non hanno avuto risultato si arriva poi alle onde d'urto spesso come un po' un'ultima spiaggia proprio perché è di difficile reperibilità a questo tipo di macchinario e lì ecco si arriva a conclusione del trattamento con degli ottimi risultati la gente il paziente stesso ecco dopo un lungo trascorso arriva alla soluzione del male da soddisfazione sì quello in ambito lavorativo da un ottimo sì quindi magari consigli anche proprio di cercare di approcciarlo dall'inizio come terapia no? sì adesso anche a livello di informazione globale quindi via internet molte persone di una fascia media che possono avere informazioni via web possono un attimino approcciarsi più velocemente a questo tipo di terapia anche gli ortopedici quindi professionisti in ambito medico hanno capito l'importanza del macchinario e quindi ecco la prescrivono di prima seduta invece che ecco altre terapie magari che sanno che hanno non dico che non funzionino perché tutto funziona ma magari hanno un percorso più lungo per la risoluzione del problema quindi ora sapete che nel nostro territorio insomma nelle province di Pesole di Ancona possiamo dire è coperto da questo servizio sì che sia io come dico sempre o altri professionisti che hanno lo stesso tipo di macchinario e quindi prima di di farlo comunque consiglio alle persone di informarsi bene su quello che andranno a trattare bene allora ripetiamo il sito dove ti possono venire a contattare mi potete trovare sul mio sito www.marcofrattini.it dove all'interno troverete non solo informazioni per quanto riguarda le onde d'urto ma su tutte le varie terapie che io faccio a livello ambulatoriale e potete seguirmi anche sul mio blog e sulla mia pagina facebook benissimo i social sono una vetrina oggigiorno sono diventati un po' il veicolo informativo che tutti seguono bene allora argomentazione interessante argomentazione anche estremamente attuale soprattutto perché le patologie in ambito muscolo scheletrico sono quelle che forse impattano maggiormente nella nostra quotidianità nella nostra vita di tutti i giorni e quindi sono quelle forse che più frequentemente richiedono un intervento e quindi se vogliamo fare un panorama sicuramente queste sono quelle che maggiormente forse ci possono interessare grazie a Marco Frattini ringrazio voi fisioterapista spero di aver modo in altre serate in altri approfondimenti di trattare altri argomenti noi siamo qui i divani nostri sono comodi sono aperti a tutti esatto sicuramente vi ringrazio dell'accoglienza allora ti aspettiamo per un'altra per un'altra argomentazione sempre in ambito fisioterapico bene grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia speriamo di essere stati utili ed esaustivi con questa argomentazione io non posso far altro che ringraziarvi e rimandarvi ai prossimi appuntamenti di Dopocena alle prossime ciao ciao ciao